Vedete, non ci sono più ambientalisti a Partenico. Quegli ambientalisti di una volta, Piero Ciravolo, Gino Scasso, Nino Amato, per citarne qualcuno che è magari con un po' di emozione. Per esempio, Gino Scasso direbbe «Ummettemo un merda in gannisio». Questa era una frase che usava molto spesso per dire che noi non siamo qui per mettere merda in gannisio, ma siamo qui per fare chiarezza e cercare di capire quello che sta succedendo a Partenico, mentre nel silenzio totale degli ambientalisti, io credo che Gino Scasso si girerebbe e si riporterebbe nella tomba nel sapere che la sua lega ambiente si ferma e si blocca solo a una manifestazione di una raccolta di sacchietti una volta l'anno o qualcosa del genere, dopodiché in un ambiente altamente inquinato come quello di Partenico non li vediamo più. Non vediamo più i pantomatici verdi di Partenico. Quel Gaetano Costanzo che addirittura ha ritardato sette mesi i lavori della piazza per non toccare quattro alberi, forse non se ne è accorto. Non se ne è accorto nessuno e quelli, attenzione, stanno danneggiando degli edifici, sono pericolosi, che si stanno tagliando gli alberi di via Aldomoro. Era un progetto ben preciso. Qualcuno tra le altre cose poi ci vuole pure speculeare, un'altra parola di Gino Scasso, non ci speculeamo che con i tronchi dell'albero va a fare facce e faccine e opere d'arti, eccetera, eccetera, perché nel paese di Partenico siamo nel paese dell'assurdo e diceva qualcuno che si può delinquere e rimanere impuniti perché solo un delinquente poteva fare quello che sta succedendo qui. Noi abbiamo cercato da ieri di capire, di capire e a quanto pare c'è la richiesta di qualcuno di un paio, attenzione, siamo attenti alle parole, un paio di alberi pericolanti che erano sulla strada di questo che era un sito EAS e oggi diventa AMAP. La richiesta a quanto pare viene proprio da Partenico. L'AMAP adesso si serve dell'Arreset e hanno questo accordo di età partecipate per determinati lavori e quindi attiva l'Arreset per venire a mettere in sicurezza questi due alberi. Ma a quanto pare di due o di quelli che, attenzione, dice Antonio Catalpio non è che sono stati bagliati, avvalutati se potevano cadere vero. Così, diciamo, stanno cadendo e li tagliamo. Tutto un semola, se forse qualche altra richiesta non lo sappiamo, lo chiederemo a Caronina Barchi, lo chiederemo agli organi competenti, lo chiederemo anche a quelli che hai, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia perché qui si sta consumando uno scempio e inutile poi qualcuno dice ripiantumeremo, piantumeremo o ripiantumeremo perché per fare un preebo di chiesto ci sono centinaia di anni non ci vuole un giorno e allora si sta facendo una strage e si continua a fare una strage e l'Arreset o l'AMAP deve dare con te ragione a qualcuno e noi lo chiediamo con forza e attenzione Vedete, qualcuno è convinto ed è convinto fortemente di essere diventato il monarca di Partinico a cui lui tutto è lesito tutto non solo il monarca con il suo contorno di schiavetti tra le altre cose non proferir favella Zobarra e il problema non è certo il monarca ma quelli che si fanno imporre di non proferir favella che ovviamente dimostrano di non avere sfina d'orsale ma questa è un'altra storia è un'altra storia perché verrà fuori il perché e per quale motivo questi alberi sono stati tagliati e svantellati per un panorama per una peduta per qualcosa in particolare noi la pietra l'abbiamo lanciata a merda a canistro ciamisevo le risposte le aspettiamo dagli organi competenti fermate questo scempio fermate questo scempio Antonio Catarbo che succede? Abbiamo visto oggi anzi da ieri che c'è questo intervento diciamo tra virgolette anomalo della Reset nel territorio di Partinico proprio oggi dovevo iniziare nella città di Palermo un accordo tra RAP e Reset per il diserbo la sistemazione del verde nella città di Palermo che soffre di problemi gravissimi come tutti sappiamo ci sono stati anche crolli di alberi pericolanti per la mancata manutenzione e vediamo che c'è una squadra enorme o almeno sei mezzi gru e non so quanto personale nel territorio di Partinico per togliere credo che già ci siano una ventina di alberi elevati oltretutto questa zona è classificata come massima pericolosità per le frane come ben sappiamo la tutta la zona del Castellaccio quindi diciamo gli alberi offrono una protezione al massimo contro le frane non so se anche questa porzione di territorio che appartieneva all'ESA sia compresa nel vincolo paesaggistico del parco suburbano del Castellaccio questo è un interrogativo che io mi pongo perché se fosse così sarebbe ancora ancora più grave perché se c'è un vincolo paesaggistico diciamo questo tipo di intervento non si può fare che poi non si può fare comunque perché noi abbiamo detto sempre sì nella manutenzione degli alberi però per togliere un albero bisogna fare un'indagine di un agronomo per vedere se c'è un'effettiva pericolosità di crollo cioè non si toglie un albero ad occhio così saccarenno e lo togliamo grazie a tutti